Saluto a tutti da Juke65 Questo è un video motivazionale Motivazionale per tutti i tifosi bianconeri Innanzitutto mi piacerebbe spiegare a chi forse fa finta, non capisce Oppure si riempie la bocca di slogan e poi non mantiene Il nostro motto è fino alla fine Fino alla fine Fino alla fine cosa significa? Fino alla fine del primo tempo? Guardo fino alla fine del primo tempo e poi Fino alla fine significa? Fino alla fine Per sempre Fino all'ultima goccia di sudore Fino all'ultimo minuto Fino all'ultimo secondo Fino all'ultimo centimetro Come dice Al Pacino Nel film Ogni maledetta domenica Bisogna combattere Fino all'ultimo centimetro Ma non solo chi è in campo Soprattutto chi è fuori E fino alla fine Non significa Che si può non tifare Perché Perché ormai siamo in rissa con la società Eh Allora se è uno juventino Che lo fa per interesse Che si deve tifare anche se non fai parte dei gruppi organizzati Non mormorare perché Rabiot Pjanic Non mi piacciono ormai Quest'anno è così Quest'annata è così Tra l'altro Nel bene e nel male Fino alla fine Siamo in testa Siamo in testa La classifica Il come È un dettaglio In un ottavo di Champions Abbiamo buone chance Di essere in finale di Coppa Italia Poi Io sono il primo A dire che Molte cose non mi piacciono L'allenatore non mi piace Molti giocatori non mi piacciono Però è fino alla fine Fino alla fine Tifare Fino alla fine Fino a che non siamo cadaveri Non siamo morti Non siamo usciti Fino alla fine Di tutte le competizioni Senza competizioni di serie A Competizioni di serie B Io farò il tifo Fino alla fine Poi La gente avrà tutto il diritto Di fischiare Di manifestare manumore Di fare quello che vuole Però Adesso Iniziano le ultime 15-20 battaglie In cui va dato tutto In campo E va dato tutto Soprattutto fuori Non lo voglio vedere più Lo stadio Subissato dai cori Degli avversari Voglio vedere le bolge Come a Dortmund E come a Madrid Fino alla fine Si sostiene Fino alla fine Anche perché Nessuno di noi sa Se poi questa squadra Andrà avanti Se questa squadra Sarà eliminata Nessuno lo ha capito Perché La vita è piena Di sorprese Di squadre che poi Hanno vinto La Grecia La Danimarca La Danimarca Champions vinta Da squadre Outsider E quindi Fino alla fine Che fino alla fine Non sia Solo un modo di dire Ma un modo di vivere Un modo di essere Fino alla fine Io Ti ferò Fino alla fine Un saluto DalliUX65 DalliUX65